Amiche e amici di nuovo insieme con Tele Aller Milano siamo a Cesano Boscone al quartiere tessera di proprietà di Aller Milano e siamo in compagnia dell'architetto Roberta Marchisio perché lei è la responsabile unica del procedimento che vede la riqualificazione dell'intero quartiere come vedete alle nostre spalle già questi palazzi sono perfettamente interamente riqualificati e come vedrete anche con le immagini del drone tanti lavori sono ancora in essere. A che punto siamo? I lavori termineranno entro il termine previsto dai super bonus perché questa iniziativa è stata finanziata grazie ai meccanismi delle detrazioni fiscali super bonus ed è stata un'iniziativa estremamente sfidante per Aller e per gli operatori che si sono impegnati perché questo è un partenariato pubblico privato. Questa iniziativa è descrivibile da dei numeri giusto per capire la dimensione. Sono 16 edifici, 960 appartamenti e quasi 40.000 metri quadri di cappotto che in questi pochi mesi siamo riusciti a installare. 10.000 metri quadri di coperture che sono state rimpermeabilizzate e coibentate a loro volta con delle prestazioni energetiche che miglioreranno sicuramente la qualità dell'abitare delle persone che abitano in questo quartiere. Il miglioramento della prestazione attesa è del 33%. Quindi ci sarà anche un corposo risparmio energetico? Sicuramente tutto quello che è stato possibile risparmiare da quello che è la dispersione degli involucri con questo intervento sicuramente è stato raggiunto. Abbiamo raggiunto il doppio salto di classe che era necessario per accedere a queste detrazioni e comunque abbiamo dato sicuramente una svolta anche all'immagine e alla qualità del quartiere. I lavori non sono ancora completati nel senso che ci sono delle migliorie che verranno apportate nei prossimi mesi grazie al finanziamento di Regione Lombardia che sono l'installazione delle inferiate dove sono state rimosse soprattutto ai piani terra. Verranno posizionati degli agganci per le veneziane e per le tende ai balconi in modo che l'applicazione di questi manufatti sia più semplice e verranno risistemati tutti i corpetti compreso le exportinerie. Quindi questo fa parte di quello che è il proseguo di questa attività di riqualificazione del quartiere. Sicuramente è stata una sfida molto complicata perché il super bonus ovviamente aveva delle tempistiche che non erano proprio compatibili e facili per una stazione appaltante pubblica come noi. Sicuramente il mercato delle costruzioni che è stato fortemente provato e saturato dal super bonus non ha reso facile il compito. C'è stato un rincaro dei prezzi esorbitanti e sicuramente anche il rincaro dovuto al prezzo dell'energia ha reso ancora più complicato la fine dei lavori. Ciò nonostante possiamo dire che tutto sta avvenendo e si sta ultimando e completando positivamente. Proprio di fronte a queste grandi sfide e queste grandi problematiche grazie comunque all'intervento sia del partner pubblico sia del partner privato siamo riusciti comunque a portare a termine questa iniziativa. Infatti voglio ringraziare tutta ALER perché comunque ha espresso una grande volontà dall'apice aziendale a tutte le strutture operative che hanno lavorato. Gli stessi operatori privati Renco, Enelix e la Mercurio con il consorzio Sapiens la direzione dei lavori e i coordinatori della sicurezza che hanno lavorato e hanno tutelato il buon andamento dei lavori. Le maestranze che hanno lavorato in situazioni climatiche molto difficili perché quest'estate c'erano 40 gradi per tutti quanti comprese per loro che lavoravano il sabato e la domenica. E questa mattina vi posso dire che siamo sotto lo zero. Esattamente. Quindi questo dimostra che le grandi sfide si vincono con le persone e tutti sono stati coinvolti e hanno avuto questa volontà di veder finito un lavoro dai fini nobili. Oggi da ottobre quando sono stati completati i primi interventi fino a che non si finiranno tutti i sopralluoghi verranno visionati dai responsabili delle imprese e ovviamente col patrocinio di Alear tutti gli alloggi e per verificare che i lavori siano stati fatti correttamente e laddove ci sono danni piuttosto che vizi da sistemare ci saranno i ripristini che susseguiranno questa fase. Quindi colgo l'occasione per dire di non preoccuparsi se ci sono in giro persone che non sono malintenzionati ovviamente verranno avvisati con appositi cartelli ma siamo noi che vogliamo andare a verificare e sistemare le cose che non sono state fatte magari in maniera corretta perché in super velocità. Grazie all'architetto Marchisio che come avete potuto sentire ha le idee piuttosto chiare e soprattutto ha seguito con estrema serietà questo procedimento. Lasciatemi dire, Alear non nasconde mai nulla, anzi è contenta di mostrare i risultati che riesce a ottenere quotidianamente. Sarebbe bello che anche altre aziende lo facessero però noi rispondiamo di Alear e Alear è contenta e fiera, orgogliosa di mostrarvi quello che viene fatto per i cittadini e per tutti coloro che abitano nei nostri appartamenti. Grazie architetto. Grazie, grazie. E noi ci rivediamo alla prossima puntata con Tele, Alear, Milano. Grazie a tutti.